Oggi dovremo andare al mare, dovremo fare tre ore di camminata in mezzo a nulla, hanno detto che sarà molto interessante perché vedremo tanti diversi paesaggi un accanto all'altro perché appunto la porticolosa del Marocco è anche questa varietà di paesaggi, quindi sono curiosa a spruire le cammelle, chi lo sa, chi lo sa. Ok, siamo ufficialmente partiti per la nostra passeggiata di tre ore. Mamma mia! Ma qui c'è stato qualcuno!